Buongiorno a tutti, io mi chiamo Mario, ho 33 anni, sono italiano, sono venuto negli Stati Uniti due anni fa per motivi di studio, adesso lavoro qui, mi trovo abbastanza bene, ad eccezione per il clima, fa troppo freddo, troppa neve, sono abituato a vivere in climi molto più caldi perché vengo dal sud Italia, ho esperienza di insegnamento, ho lavorato due anni qui a Chicago in un campo estivo con bambini dai 4 anni fino ai 15 anni ed è stata un'esperienza molto bella, perché questo? A me piace stare in mezzo ai bambini, mi piace vedere il loro sorriso, mi piace la loro ingenuità, mi piace subito quando ti guardano con quegli occhioni pieni di curiosità, di vedere cosa stai facendo, cosa facciamo adesso e la cosa che mi ha dato molto soddisfazione è che all'inizio del campo c'era un pochino più di freddezza con i bambini, non parlavano italiano, alla fine del campo dopo 4-5 settimane è stato molto bello vedere come i bambini, ti salutavano, dicevano ciao Mario, ciao come stai, tutto bene, buongiorno ed è stata per me un'immensa soddisfazione, spesso e volentieri vado a delle feste italiane e mi capita di incontrare qualche bambino che è stato al campo estivo, mi fa molto piacere vedere come si ricordano di me, come vengono da me, mi salutano, mi abbracciano, è stata è stata un'esperienza bellissima e vorrei cercare di farla di nuovo, adesso c'era la simulazione Allora, siete pronti per la simulazione? Ehi Charlie, sei pronto per la simulazione? Sei pronto? Sì? No? Sì? Sei pronto Charlie? Allora Charlie, come va Charlie? Ciao Charlie, ciao Charlie, sai dire ciao? Ciao, fammi sentire, di ciao, oh bravissimo Charlie, un applauso per te! Allora Charlie, che cosa abbiamo qui? Che cosa abbiamo qui Charlie? Charlie, uh, uh, che cos'è Charlie? Uh, uh, che cos'è Charlie? Questo è il cane, questo è il cane, uh, uh, di ciao cane, ciao cane, ciao Charlie, ciao, 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 ciao cane, il cane. E qui, e qui cosa abbiamo Charlie? Oh, miau, che cos'è, che cos'è Charlie? Miau, miau, miau. Questo è il gatto, questo è il gatto, di ciao al gatto, ciao gatto, ciao, ecco il gatto. E qui, cosa abbiamo invece qui? Cosa abbiamo? Oh, che cos'è questo? Swiss, 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 Swiss. Questo è il topo, questo è il topo, Swiss. Ciao topo, ciao Charlie, ciao topo, di ciao al topo. Allora, cosa facciamo adesso? Allora, mescoliamo, mescoliamo le carte, mescoliamo le carte, mescola, 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 mescola. Dov'è il cane? Bau, bau, dov'è? Bau, bau, chi è? Bau, bau, è il cane, vediamo un po', è qui? È qui? No, sì, sì, è qui? Vediamo qui? Sì, Charlie, vediamo cosa c'è qui? Oh, Charlie, cos'è questo? Questo è miau, miau, cos'è? Questo è il gatto, questo è il gatto, Charlie. Allora, proviamo qui? Proviamo qui? Qui, 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 qui. Questo qua? Questo? Vediamo qui? Vediamo, Charlie. Oh, che cos'è questo? Swiss, Swiss. Questo è il topo, questo è il topo, Charlie, mi dispiace. Allora, dove sarà il cane? Dove sarà il cane? Oh, ecco il cane! Bau, bau, ecco il cane! Oh! Ti è piaciuto il gioco, Charlie? Sei stato bravissimo, bravissimo, Charlie. Ciao, Charlie, ciao, ciao, ciao! Ecco fatto, il gioco di Simone. Non ho mai giocato al gioco di Simone, Simon Says, mai. Cercherò di fare il mio meglio. Allora, ragazzi, siete pronti a giocare al gioco di Simone? Siete pronti? Siete pronti? Vediamo, siete pronti? Alzate le mani, siete pronti? Sì, giochiamo al gioco di Simone. E' importante, quando dico Simone dice, Simone dice, e questo è molto importante, ascoltate, ascoltate sempre Simone dice. Allora, siete pronti? Siete pronti? Ok, iniziamo. Allora, Simone dice alzare le mani. Simone dice dammi il cinque, dammi il cinque. Simone dice salutare, salutare. Simone dice, vediamo un po', nuotare, nuotare, nuotare. Simone dice ballare, ballare. Alzare le mani. Eh, ti ho visto, Charlie. Non ho detto Simone dice, non ho detto Simone ci dice. Sei fuori, mi dispiace. Adesso continuiamo con gli altri. Siete pronti, ragazzi? State attenti. Simone dice alzare le mani, alzare le mani. Simone dice dammi il cinque, dammi il cinque. Simone dice alzare la gamba destra, la gamba destra. Dammi il cinque. Eh, ti ho visto, ti ho visto Mario. Non ho detto Simone dice, non ho detto. Mi dispiace. Sei fuori. Giochiamo poi la prossima volta con te. Allora, continuiamo. Siete pronti? Siete pronti di nuovo? Siete pronti? Fatemi sentire sì, no, sì. Siete pronti? Allora, Simone dice nuotare, nuotare. Simone dice saltare, saltare. Simone dice dammi il cinque, dammi il cinque. Ops, ho sbagliato. Sono fuori. Spero vi siete divertiti. Vi saluto. Ciao ciao. Vi auguro una bella serata. Ciao ciao. Ciao ciao.